Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! L'edizione del 2024 dell'Eurovision Song Contest che si è svolta a Malmo ha finalmente coronato il vincitore, il talentuoso cantante svizzero Nemo. Con il suo brano coinvolgente e la sua performance straordinaria, Nemo è riuscito a conquistare sia la giuria che il pubblico, dimostrando di essere il migliore in assoluto. Ma non possiamo dimenticare la bravissima Angelina Mango, che si è classificata al settimo posto con il suo brano La Noia. Nonostante la forte concorrenza e le alte aspettative, Angelina ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua voce potente e la sua presenza scenica unica. Il palco dell'Eurovision Song Contest è stato teatro di emozioni, talento e musica straordinaria, con artisti provenienti da tutto il mondo che hanno dato il meglio di sé per conquistare il titolo di vincitore. E Nemo, con la sua performance indimenticabile, ha dimostrato di essere il più grande di tutti. L'edizione del 2024 è stata un successo indiscutibile, con momenti indimenticabili e canzoni che resteranno nel cuore di tutti gli spettatori. E non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà l'edizione del prossimo anno, con nuovi talenti pronti a stupirci e emozionarci con la loro musica. L'Eurovision Song Contest è un evento unico nel suo genere, che unisce popoli e culture attraverso la musica. E quest'anno non ha deluso le aspettative.